come io lo spasse spasse mi... non lo so fino a quando la tattica non lo so no Sebastiano che c'è la tua? no 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 è meglio 2 e 9 fisso sempre se fosse quando l'ha fatta la vittoria l'altra volta non ne ho fatta solo una non ne ho fatta solo una ma è un singolo no 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 quando ti sei quando ti sei io ti sei io ti sei no 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 che ca no 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 che ca fa una cosa allora e ca mi ascolti no 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 che ca vai la mia isola metti permessi tutti e poi non fare più niente non ho capito 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 che ca ci senti ti senti che? sii oddio Se possiamo nuotare nel mare Oddio possiamo nuotare fino all'isola No 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 Oh si sono uscito dal limite Ma Ma quando ci arrivi la Gisè ma dove stai? La Gisè Ma non mi vedi dove sto io Gisè Questa sta arrivando Questa bomba Eccà Non ci vuoi stanno uccidendo Puttana Lasci stare la mia fidanzata No Allora Allora lo spasso Allora mandandole No No Cosa succede? Oh ma io non vado più Oh io Oh ma io non vado più lo spulso si chiama l'espulso mi devi dire tu come si fa Gia della gioventù ti ha menzionato nella sua storia mi ha menzionato la gioventù ho scritto 1985 vado giù quando torna la mentica gioventù mi devi sa perché non può venire perché l'ha spulso là dopo dal gruppo non ci tocca esatto oh no si è passato oh ma stanno davvero toccati aspetta mi devo aiutare dai Gia metti che si vuole ok 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 è un'altra cosa? si è un'altra cosa e si è un'altra cosa si è un'altra cosa ma la mette ma la mette un'altra cosa oi ma che vole ma non ci pittano a salvare ma mamma mia sebbas sebbas però pure tu la mira lo ci ci ma vuoi e quest'arma non lo trovo se lo scarci non lo scarci ma non lo scarci ma non lo scarci ma non lo scarci ma perchè? ma questo è stato di nuovo no va bene ma va bene ma va bene ma va bene va bene va bene va bene va bene non ci credo non ci credo allora vai giù e spullete questo qua? e spullete questo qua? e spullete questo qua? e mamma mia ma mamma mia e che cosa faccio? e sepey e sepey ma che cosa facciamo? ehhh beh sentate va in giudice e a giudice e a giudice guardami mi ho scena e poi vai vai e poi vai vai a si mi ha è comeộ che era... non mi è sparato non mi è sparato Eh, ho detto non mi sparare perché... Eeeh, non mi sparare! Ah, mamma mia, cazzo io, voi sanno, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, fai così, 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 fai così... Guarda, guarda questo... Ma, però, ma guarda quello che sto facendo! Vai, vai, stai di tanto, vai, sto guardando! Ah... Ma mi diciare, perché io si giurano un po' po' Allora, che fai... Allora, stai fermo, voglio farei... Poff, che cazzo! Così? Sono io, sono io, fermi, non mi sparate, non mi sparate! Guarda, no! Io, 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 inospefai, vai, e mi guarda. Ah, non devo entrare, devo fare una cosa! non mi pare no no non mi pare rimane nel box è bambu io consiglierei che è il finale è scioglio oh o chi si va più o chi si va più è normale ma va bene ah ah fermi tutti vai giù allora chi è questo? entra venite qua sebasia vieni qua ah sebasia allora le vuole lo star lo star normale vabbè non so più per me credo che cosa faccio io andrò e guardarmi eh diventa tutte le armi che vuoi oh 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 e hai alza stronzo di merda basta basta guardarli ciao se te 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 lo dico se te te lo faccio creativi ma ti venite per te solo fai star di più a guardura ti faccio creativi a grodura Poi io lo vedo dove l'ho usato Ah mamma mia Eh Posso fare le ceste Ah Ma ero che c'è un'accusa? Che facci? Senza Senza augure Possiamo fare una cosa che faccio sempre con te Ma non ti ricordi No amore no no Sono geloso No No Facciamo le tre Facciamo le tre Ho capito ragazzi Dove sta E cosa? Guarda Giuliani Ma che fa? Che fa? Sì No Leo di sé Sì 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 No No Voglio fermi un attimo Voglio fermi tutti No Voglio fermi Oh Voglio fermi Voglio fermi In questo box qua Ok Però non posso chiarare Come si entra? Ok Ok Vai Aspetta un attimo Sebastiano mi sta un attimo sfidando Sebastiano 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 5 minuti stacco Sì 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 Allora Facciamoci sei questo Per favore Allora No 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 Le mettiamo qua dentro No 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 Oh va Fu cesso No 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 Ma mica metto tutti i cazzo e cazzo di cane E qui cazzo E ti puoi sciolini come cure eh No No senza cure Ma fai un po' il cesso se basta Sì Voglio sapere le mie armi Ah Non ho messo il finavanti Cazzo Ssss Ma perché su queste armi? Sì Sì Non c'è la piazza Se vuoi spiegare che cosa stanno facendo Che cosa stanno facendo? Oh Oh Guarda queste qua Che cosa... Vai in quel box là Vai di là Vai di là Ok Ok No No però Sei scusa Così Dobbiamo parla tutti Ah Stesso spro Poi io lo vediamo Vedi Ah 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 Eh Mi sento molto molto importante Forza troia Sì Sì Non prendere le armi Porco dio Non prendere le armi Ah 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 Allora Fermi tutti E mi spieghi cosa Quella nel tuo box Ah Ah Sono scelta Ma Oh Quanto la devi prendere Ricordata Ma E Ma Ma io Mi sto mancando le pesce Mi sto mancando le pesce Mi da le cose Nooo Ma No Ah A Per Il live me l'avete fatto dire Mi stai definendoва Sperare PORCAMASANNA Basta Ah fa un culo Ah mannassi Sperare No mi spara Por favor Vendig Andi rimanite Joga giocate mi sbaccia un attimo le armi PORCO DIO!!! Basta, basta, smettiti hai fatto un pochino 2-1 ma mi ha fatto perdere tutto il tempo quello che lo faccio perdere io oi mi fate fare un'azione di chieste per favore mi sto incazzando ma io mi sto incazzando SEDE ma che cazzo qua io mi puoi decidere AHHHH non sai che c'è ragazzi ragazzi nooo ragazzi AHHHH giustamente che casano 12 anni che si no 13 anni che sebastiano siamo cugini ne so ne so qualcosa eppure lui sa qualcosa di me non dire così perché non è vero si. no se hai non si. non non, 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 non si si e per i siti allora che cadimi la sua rimposta o per vedere il mio cerco porco il dio ditemi un attimo come faccio a far volare che è allora ma l'impostazione per me per favore ahah 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 ma vabbè 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 porco il dio che cambia di dire un attimo le impostazioni che dove mette le pette allora ecco me nessuno ha esperto fosse capito vabbè non mi andate niente metto di chi sono queste armi non lo so non me la chiede no no sono persone non dove te le ho fatte già le armi buono giocatore si ok fatto 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 10 ho fatto pure tu puoi volare se basato no 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 è che il camere ma io non volo che caio sono pro gamer non è che ma che cazzo è stato basta ma posso abbiare fermi o io non mi uscire nel favore cazzo è stato un po' che ci si è eccita Nooo! Gesù cancro! Nooo! E che voglio fare? Che devo fare? Basta vero Cosa? G7 G7 Bene, bene Ovvio Cosa? Ma io, ma perché ho i pezzi del mio cassetto sul letto? Oh no, c'è la p***a Due persone! Ciao! No, va sotto la sua mente queste cose Sè, ma 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 Giuseppe mi hai messo perché si corre lentissimo Devi mettere pure la velocità Che c***o? No, che c***o? La devi aggiustare tu la velocità Dove sto io? No, sento che devi mettere la velocità No, pure tu la puoi aggiustare Voglio ti spiegare dove devo andare questo per te Allora, sai, guarda Segui lo sparo Segui lo sparo Scusa Eh, ma c***o qua che coloro è bellissima E c***o a me Di tardata Allora, io voglio tu Ehhh Io voglio lo scarro Io voglio lo scarro Eh, perciò è qui e mezzo No, non ci sta Scusa Ma c***o a me C***o a me E' un po' che mi piace a me Nooo Questa è un po' che mi piace a me Eccasso tutto qua No, io non ho capito. No, io non ho capito. Quale? No! Quello non è vero! Quello non è vero! Quello non è vero! No! Ah, lo Spice! No! E qual è lo Spice? Eh, eh, eh! Nance! Qui sta? No, io non ho capito. Ah, il bicicletto è un pazzo che troviamo sempre nella... E' alzata qua. E' alzata qua. Allora... E' che c***o? Ah, non ci sta! Eh, che c***o vuoi? E' grande quello che c***o vuoi, non ce ne pompa! Allora, gli stai qui sul suore. Allora, gli stai qui sul suore. Allora, gli stai qui sul suore. Allora, tutti sono nel volo. Allora, i stai qui sul proprio punto, non è vero. Allora! Allora! Allora, l'ai scegliato! Allora, l'ai scegliato... No 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 Ehm 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 Stavo a terra Ehm 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 ok arrivo adesso arrivo No, 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 no. Vabbè, è un yewann, il yewann. Ma perché due vuoi? Ma vieni andar? No, no, non devo. No, no, devo andare a mangiare. E questo? Amore. Oh, mi siente? Amore Amore Chi è? Chi è? Chi è? Chi è andato a mangiare? Chi è? Chi è andato? Chi è andato a mangiare? Chi è andato a mangiare? Ma perché volo? Chi è andato a mangiare? 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 Ammelo ho capito mamma oh Gisè vengo dopo mangiato Gisè oh vengo dopo mangiato però dopo lasciamo squadra non devo andare a mangiare la buccia dopo lasciamo squadra per non prendere la vita è giù è qua cioè se è qualcosa vado a farmi un singolo che dice il mondo? se è qualcosa vado a farmi un singolo eh vado a farmi un singolo quando veniamo invece facciamo scurre ciao alla posizione secondi chiaro la posizione secondi chiaro la posizione secondi chiaro la posizione secondi chiaro Grazie a tutti 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 Marendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Stacca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grande no! No no no! Ho gesù quel cancro! No non è pompa! Damn Non ti fai, davvero voluto me né faccia tutto eh Cheat! Ma che cosa vuoi enteredare? ah ma tu lo usi non ti sto bucciando sto bucciando Angelo io ma Gesù col tumore Angelo ti fortissimo te lo aspettavi di questo lo sei fortissimo bra ah bucci che male bucci non è bucciando no io ditemi voi se questo non è culo come cazzo Nicola si salva dalle mie spassate bello io sto fortissimo quanto mi hai fatto da laggiù 50 e non ce li hai le cure quindi è inutile per essere sopra ma è un gpeppe quello no dai oh ma la tattica da quando vale mamma dove Angelo il cancro deve venire bravo ma 220 ma anche ti posso sapere Samuele e io voglio sapere me la mette sopra cioè volevo dire sotto voglio sapere Samuele Defraya e tu è Angelo voglio sapere Samuele Defraya cosa ha scritto se non è live ma perché non riesco a giocare cosa ha scritto sta bella sa oh ma chi ha visto qua un barretto barretto ma chi ha le cure io no se no tengo 51 di vita dall'era di quando è nato Gesù cioè moi ma tu non eri morto io no ma quando l'hai fatto da 50 a bianco non sono morto no te l'ho fatto blu per 50 al primo acroboid ma quanto cazzo sono Nabbo ma quanto cazzo sono Nabbo vada non riesco a fare niente ma goccia non ho fatto unita a nessuno fino a mo questo carino ottimo picchini sta andato e ti prendevo Fran io perdito perché non so giocare BAM faccio che sta dal limite ma dove c'eri tra ped coione coione hai preso la mia trappola beh si ho visto proprio in pieno che l'ho presa oh c'è anche Niccolito è funzionata ti vedo buongiorno buongiorno no io mi ero Gesù Cristo in culo perché non mi avete detto che valeva la tattica chi è lo spammer che ce l'ho io no lo giuro oh shit Niccolò non mi ha sparato mi ha dato la visuale e ti ha seguito il mio pompa mi ha sparato da me che ho fatto il movimento veloce ma perché ho aver buildato ma perché ma no io sono giù a tutto che vuole venire bene io io perché io perché zero kill io una kill no vabbè ma io dio tumore io sto giù a tutto mi sto mangiando anche pesciallini con me oh non valgono lo so yao giuse ma ragazzi è possibile sta cosa scusatemi no anche no però sua mamma è un tumore di merda deve prendere là il cancro suo nonno non so anche se è vivo porco dio ok ma io ma perché è buildato in inferno ma che è cosa so io vedo Giuseppe che è buildato in inferno io cambio da build chi è che deve venire il tumore si si prima kill buongiorno buongiorno raga buongiorno 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 mi sai che è fatta la pelle ma chi lo so si buongiorno oh ma ce l'ha crescita fatta oh ce l'ha male molto di santa chita stramorta mi piace sto cercando sta culona che twerk twerk chi scende giù venga c'è chi chi vuole fai dare him vengono nicolato a me fa poi una puttana zaccola di merda che cazzo mi fai cadere io c'ho chinato che cazzo ma tu mi fai cadere apposta ma che cazzo eh no eh no mi mangio due pesciolini yao non valgono ma che si bagga sempre perché c'è il cancro io guarda che ho fatto un po' male quindi me lo vado a chillare un po' dici eh roglie che cazzo me lo lascio Nicola per favore che io l'ho aiutato più eh beh mi ha uosciutato dai ho fatto prima 30 poi 200 ok spalla aiuto di visare muori porco chifo ma che chi no io ho fatto 37 bianco quindi se non mi chiedi tu che c'hai la mamma puttroia delle troie ma porco il cristo in culo vaffanculo io non mi gioco con voi vado a fare le singole ciao io che c'ho un tre io che c'entra no tu fa fottiti eh entro che c'è un mappo so con me eh c'è un mappo troiolone ecco vedi ciao ragazzi quello ancora scendato io gli c'hai pesci cosa c'è un pesce c'è un pesce c'è un pesce c'è un pesce chi ti corti ma voi non me lo dite che vale la tattica ma la tattica non c'è nel gioco con me lo dovete posare no io io dovevo posare giusto porco di io oh 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 ma perché no perché devi giocare non mi devi appendere ma sto giocando con il mio team ma che pensavo ci sono i tfv aspetta ehi se possiamo no no non ci sembra non mi ci punti non è vero oh sto venendo oh ma troviamo alzano il buchino e allora vincere io io un altro che vuole venire da mia cugina io io angelo e tu c'è lo prima io oh angelo dice a checa vuole uno che si chiama nicola o uno che si chiama angelo uno che si chiama nicola o che si chiama angelo vuoi grande angelo grande angelo ha visto ahahahahahahahahahah ma dita è peo ahahah povero nicola trigger ma dita è peo ciao ciao ragazzi ti verrò giù non mi ha vinto si si stiamo valendo ragazzi angelo è il prescelto Che hai fatto con checca? Andami Angelo, ciao Nico Povero E ne siamo già 4 No Nico Nico Hai partito il tuo cugino? No Andiamo Quando stai in lobi con lui mi inviti Vabbè Vuoi chiedere? Entra in lobi da lui e invita la Moana Deve avere un certo gioco? Sì sì Però tu pure hai tutto mi devi fare un bel bocchino Ma che cazzo stai dicendo? Unici da gruppo Ma quello 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 Che cazzo le skin hanno questi? Va in chat Va in chat Va in gioco Hello? Il direttante deve andare in chat di gioco Non sto in chat di gioco E? Dove no? Ma io sono andata Ecco me Ecco me Ehi bello Ciao Ciao Vai Ciao Ma chi è sta cantante della Madonna? Eh È la sorella È bellissima Giorgia 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 Verda Fanno un bocchino Vabbè 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 Dicchilo E poi ci hai fatto Un complimento La stafuna Vabbè Vabbè Giorgia 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 Comp quitte parti me allora premi pausa ritardato no poi metti sopra al volume di mi piace la porco dio poi metti chat vocale il microfono aperto partita notifica la città che trova la città che c'è questa c'è questo che mi piace vabbè 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 allora angelo vai su chat vocale già tutto ok metti chat vocale si metti il microfono deve essere aperto poi chat vocale metti gruppo ah ok vabbè vabbè vai prova parla ciao 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 no non faccio no metti allora partita ok metti sia poi mai su volume soprattutto metti chat vocale 100% chissà la messa non c'è sta messo tutto già va proprio devi mettere con tu sei ti è bastare con i conti benzi martin non mi stava sboccare ma io le pro c'è nesi su un quadro si io giuseppe sta messo tutto non mi fa parlare angelo angelo però tu ti è un botto frate non c'è mai a pietudio all'asile ingel angelo ingel 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 proprio bene. Metti pronto Sebastien? Angelo, guardiamole a questi due bot. Ma sei com'è? Stanno in partita loro. Eh, mettiti pronto come se volessi mettere pronto. Amore. Aspetta, facciamo qui. Che ti ho chiamato, diciamo di me. Oh, è spazzato. Se tu mi rispondi... È vicano e mi. È di nuovo. Sto guardando. A chi guarda? A me o se sta? A tutti e due. Se posso guardare a tutti e due. Eh, no, una persona va guardare. Non è impegnabile. Guarda Sebastien. Amore, mi sono andata. No, se, provatami. Ma perché stai? Se feglierò la partita! Ma come sta a fare? Eh, non è prendere della mamma. Ma scusa. Non te lo fare. Non ti serve. Non ti serve. Guardi, facci meglio il mano. Scusa. Uuuuh, come sta a fare? Uuuuh, come sta a fare? Gabriele, c'è un puzzaculo. fa così crea un party angela si è un po impedita papà è un po più forte angela di migliori parti fretta ti ha invitato nel party Ok, ora ti sento Vai in chat di gioco Vai Ti fa andare No Mi dice che sto in chat di gioco ma sto nel party Che cazzo è Madò 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 Gesù Cristo Giuseppe No No, niente Maronna santa Ah, pochè, pochè Gesù Cristo male, pochè Pochè, pochè non basta Non scatta nulla la cosa, cazzo Vibrazione Ma quando builda, vibra Sì, fa cagare Minchia, se spammi di 90 Oh, oh, oh Che cosa è, se facciamo una bella cosa Facciamo una chiamata a tutti quanti Vi inviti ai due cugini e mi inviti pure a me Giusto Aspettiamo Chiamo Chiamo Sì, spero, vado un attimo in chat E mi avrei un attimo in chat di gioco Why you Oh, oh Oh, ma che cagli giocare che gli hai fatto a quella Ma se vi chiamo a tutti quanti e facciamo una chiamata unita Sì Sì Sì, no, se basta per forza Sì, sì, sì Aspetta, non chiamarci Aspetta Guarda un attimo in questa partita Adesso, vado in certa parte però Angelo, il tempo che finiscono la partita Perché lei è una checchè da telefono Ma tu li stai guardando con me No, ma tu li stai guardando Io sì Ma come cazzo faccio a guardare Premi pronto Cosa? Premi pronto E l'ho messo pronto E non c'è se cazzo di gioco Vedo che c'hanno pronti Mi dice Ma lo caprete sta zitta Ma sta ogni notto Cioè No, che cazzo No, 22 Che cazzo dice che sono in notto Ma non è santa Ma non è santa Ma non è santa Gesù Cristo Aiutami tu Domani sera esci tu Oh, B Io no Perché? Perché mi scoccio No No, che invece vorrei solo averti più vicino Ma non è santa di te No Forse viene pure Nadia Ma che me fa con che? Boh Che me fa con Nadia? E allora usciamo come non inchiare gli altri Se può uscire con Nadia esci No Ma se non esci tu non esco io Io non esco forse Cosca le né due occhi Cosca le né due occhi Quante kill l'hanno? Una, ho guardato, l'altra telefono ho sette kill e il mio cugino ha due Ma è forte è più forte di tuoi no la schiena che c'è nel tuo cugino la volevo io c'è un fight in armand da davanti vuoi lasciar play? no, non posso, sei live no, non posso, sei live Immersione a terra Chi l'ha messo a terra? Ma è stato fatti di vivere. Scusate scudanne Se non va a finire la terra orchi troie è morto Ma si chiama un certo gioco Qua giù Ma io vi chiamo vero Ma no Ma perché? No io perché sennò il mio amico non può parlare Ma perché non sente? Non lo so, vediamo, me lo vedo Che rispondi Senta, sento, 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 sento Senta, sento, 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 sento Ok, infatti va Invitiamo Io ho capito Sebastiano 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 Aggiungi Aggiungiamo Ecco Anzi Anzi Oh, quitto Io ho quitto il passi Oh, carino Come ti chiami? Come ti chiami? Non so, come ti chiami? Non so, come ti chiami? Perché mi vado alla certa parte Non mi vuoi rispondere Ma se vuoi Ma se vuoi, secondo me è pure, è proprio inutile che Vi, io vi chiamo a voi due Che cazzo Ehm Ehm Che cazzo Eh, sta a ca Ehm No, no Che che seba, staccata la chiamata Rimaniamo in chiamata soltanto e Angelo Angelo Angelo, ti richiamo Rimaniamo in chiamata Si, si Accavi Ecco, stai Ugo, mi vado Ma che cazzo Aggiungi Adesso Siamo Angelo Anzi Aggiungi Adesso Siamo Adesso 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 Sì, 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 sì. Ma dov'è? Ma dov'è? Non è vero.